Ciao a tutti, sono Ramiro Cerveria. Sono molto felice di essere parte di voi, di essere parte del Gigante da Rigento in questa stagione del 2023-2024. Voglio ringraziare la società per darmi questa possibilità e non vedo l'ora di essere là e cominciare questa nuova stagione insieme a voi, tutti insieme. Vi mando un abbraccio grande e ci vediamo presto.